Sicurezza per la salute dei cittadini ma anche tutela di tutte le attività economiche. Navighiamo tra Scille e Cariddi, dice il prefetto di Salerno Francesco Russo, anche oggi impegnato in una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e reduce da un confronto avuto ieri con i rappresentanti delle attività produttive della provincia di Salerno, che, proprio al massimo rappresentante del governo sul territorio provinciale di Salerno, hanno chiesto di avere regole certe, laddove neanche i ristori sono stati sicuri. Il prefetto ha posto l'esempio di quanto sta accadendo nella Valle dell'Irno, ferma l'università, si è bloccato tutto, per questo la priorità è anche ritornare alla normalità, ma rispettare le regole. Un documento in 45 pagine ha inoltre riorganizzato i collegamenti per far ritornare a scuola gli studenti. Da Salerno, Cava e Agronocerino-Sarnese dovranno entrare in classe più tardi, ma, dice il prefetto, dobbiamo anche attendere le ulteriori disposizioni governative. Andando a attendere le decisioni sia del governo sia da parte della regione, c'era stato dato questo compito a noi, come a tutti i prefetti d'Italia, che era quello di conciliare il rientro in sicurezza a scuola con quella che era la realtà dei trasporti. Noi abbiamo fatto lo sforzo massimo per realizzare questo tipo di percorso. Abbiamo fatto dei ragionamenti anche diversificati, tra le zone in cui c'è minore afflusso di studenti, in cui siamo riusciti attraverso il nostro documento a garantire l'ingresso unico, e le zone, io le chiamo l'area metropolitana di Salerno, che abbraccia anche tutto l'Agronocerino-Sarnese, Cava dei Tirreni, la zona che è attorno a Salerno, dove obiettivamente per problemi di viabilità di traffico, di difficoltà, insomma anche perché le immagini, il raddoppio degli autobus su una situazione di traffico, perché in effetti al 50% significa raddoppiare gli autobus praticamente, una situazione di traffico già particolarmente complessa. Quindi ecco, conciliare questi aspetti. Questo è stato lo sforzo. Lo sforzo ulteriore che noi stiamo facendo, ma che è già a buon punto evidentemente, è quello di conciliare anche, come dire, una verifica, una presenza, un controllo, perché noi non dobbiamo dimenticare che c'è l'aspetto dei trasporti in sicurezza, c'è l'aspetto anche degli assembramenti, dei ragazzi, che naturalmente, ecco questo è un altro aspetto che ho messo anche nella riunione di ieri, quindi i ragazzi stanno avendo, i giovani stanno avendo veramente, stanno subendo conseguenze molto, molto difficili, perché in effetti gli spazi socializiali sono sempre più ridotti e i giovani hanno particolari esigenze di socialità, insomma ecco la vita dei giovani tra di noi, come dire, il loro stare insieme è sempre stato un motivo di gioia, come dire, questo purtroppo loro stanno avendo, e noi di questo siamo pienamente consapevoli, da un lato continuiamo a ripetere, e lo ripeto anche io adesso, verso i giovani, di tenere un atteggiamento consapevole e responsabile, però dall'altro lato dobbiamo tener conto appunto che bisogna poi far riguadagnare quegli spazi di socialità, ma questo è frutto che è necessario per loro, oserei dire che è necessario per tutti quanti noi, questo è frutto evidentemente del fatto che noi riusciamo a tenere sotto controllo la pandemia e attraverso adesso la campagna vaccinale, su cui anche insieme all'Astra stiamo avendo dei contatti continui proprio per fare in modo che anche questa possa venire alla massima sicurezza e il più celermente possibile, che poi quella è la chiave di volta per superare, diciamo, questo momento così difficile e problematico che stiamo vivendo. Dall'altro lato però appunto dobbiamo fare in modo, la scuola oltre ad essere un elemento essenziale nella formazione dei nostri giovani, è anche un momento di socialità importante. Sarà importante per la ripresa della scuola, prefetto, che i ragazzi rispettino anche le regole che verranno imposte, l'appello del prefetto di Salerno? Certo, certo, è necessario praticamente, come dire, evitare al massimo quelli che sono i momenti di assembramento, cioè rispettare le regole, insomma, fare in modo, e stiamo tentando appunto tutti quanti insieme di riportare la scuola, però tutti quanti lo diciamo, lo ripetiamo sempre, dal governo alla regione, scendere giù, in sicurezza.